Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0 A dimostrazione del fatto che sappiamo davvero poco del nostro passato più remoto dobbiamo ammettere con rammarico che non siamo più in grado di leggere le orme scritte che i nostri antenati hanno lasciato dietro di sé Resta ad esempio un enigma lo scopo delle incisioni presenti sulla pietra di Kochno un reperto antico di migliaia di anni e di rara bellezza Ecco cosa sappiamo sulla pietra misteriosa di Kochno e le sue misteriosi incisioni La pietra di Kochno, che viene anche chiamata la pietra dei druidi, è datata a 3000 a.C. Ha dunque oltre 5000 anni ma venne riscoperta solo nel 1887 dal reverendo James Harvey in prossimità della fattoria di Kochno Il reperto, che dunque risale all'età del bronzo, si trova in Scozia nella regione del Dulbart Shire, nella parte nord di Cité Blanc Misura 13 metri di larghezza per 8 di ampiezza e si estende per un centinaio di metri quadrati La pietra arenaria è ricoperta da 90 disegni e graffiti di varia natura incisi con abilità e dall'aria vagamente familiare Si sono infatti molti petroglifi ricorrenti nelle incisioni rinvenute in varie parti del mondo In particolar modo, uno è il segno più frequente ripetuto quello nel gergo tecnico che viene definito come coppella Si tratta di un'incisione concava poco profonda attorniata da dei cerchi concentrici Nel complesso, la figura ricorda un labirinto e si trova in siti archeologici dell'Europa, dall'America, l'India, in Egitto insomma, praticamente ovunque e anche l'Italia compresa Oltre alle coppelle, altri segni che hanno incuriosito gli archeologi e gli studiosi sono una croce, chiaramente pre-cristiana, iscritta in una forma ovale Ci sono poi disegnate due impronte di piedi ma non chiaramente umane, in quanto possiedono quattro dita anziché cinque Ma che cosa rappresentano tutte queste numerose figure? Fin dal giorno in cui fu riportata la luce tanti eminenti studiosi si sono lambiccati il cervello per interpretare la pietra di Cochno Bisogna precisare che non si tratta di un unicum per la zona in cui si trova ma anche che è l'unico esemplare di petroglifi così ben disegnati e così complessi I primi a tentare di decifrare gli antichi simboli furono lo stesso James Array insieme a John Bruce ed William Donley La popolarità del sito però cominciò a crescere a partire dai primi decenni del Novecento quando Ludovic MacLellan elaborò la sua teoria secondo la quale il complesso di disegni e simboli non era altro che una mappa astrale in grado di anticipare le eclissi solari Ludovic dipinse con i colori ad olio le linee che secondo lui collegavano i vari disegni e questo fatto cominciò ad attirare i turisti Molti di quelli che si recavano alla pietra di Cochno quindi lo facevano per curiosità e non per interesse scientifico o archeologico Accadde così che il prezioso reperto venisse ricoperto di altro genere di graffiti questi ultimi però moderni Ciò condusse alla drastica decisione di ricoprire di nuovo la pietra con la terra e di nasconderla facendola confondere con il sottobosco Tale decisione fu presa e messa in atto nel 1965 per volere degli archeologi dell'Università di Glasgow Lo scopo era quello di preservare la pietra di Cochno da ulteriori atti vandalici Qualcuno però si è rammaricato di tale decisione in quanto ha anche privato la gente comune del piacere di osservare quelle iscrizioni tentando forse di trovarci un senso C'è anche chi ha pensato che la scelta fosse più dettata dalla volontà di occultare il reperto e il suo vero significato e questo ancora oggi rimane un enigma Nel 2016 è avvenuto un fatto epocale La pietra è stata diseppellita alla fine di poterla studiare con le moderne attrezzature tecnologiche che si hanno oggi a disposizione La sua superficie, dopo essere stata ripulita dalla terra è stata mappata in 3D, fotografata in ogni angolazione e ripresa con l'ausilio di droni In seguito è stata nuovamente occultata alla vista dei profani In base alle dichiarazioni rilasciate all'epoca dai vari partecipanti al progetto tutti i rilievi dovrebbero servire per costruire un modello tridimensionale della pietra di Cochno che serva per studiare la superficie senza disturbare ulteriormente l'originale Si parlò anche di un lavoro in sinergia con la gente del posto che conservava ancora molta memoria sull'epoca in cui la pietra era accessibile a tutti Ad oggi un'approfondita ricerca in rete non mi ha mostrato i risultati di questi studi che si suppone siano ancora in corso ma qui ho i miei dubbi e per questo credo che non dobbiamo aspettarci nuove mirabolanti rivelazioni sulle incisioni misteriose Per il momento restano dunque in piedi tutte le ipotesi fatte in questi ultimi decenni Quella che ai tempi fece più scalpore ma che è ancora stata rigettata dalla scienza ufficiale è l'idea che la pietra sia una mappa stellare Una visione più prosaica della questione dice che si tratta sì di una mappa ma degli insediamenti della zona all'epoca dell'incisione Ci sono poi le interpretazioni mistiche e religiose Forse la pietra era un luogo sacro che simboleggiava la credenza della reincarnazione e quindi rappresentava tanto una tomba che un utero una fine e un inizio Di certo il segno che incuriosisce di più al pari forse dei piedi con quattro dita è la coppella ovvero il labirinto che si dipana da uno specchio d'acqua centrale La depressione scavata nella roccia infatti secondo molti serviva a contenere dell'acqua o altro liquido La coppella, come dicevamo è assai ricorrente in moltissime parti del mondo in iscrizioni più o meno coeve alla pietra di Coccino La coppella compare non solo come incisioni ma anche come affresco disegno ad esempio a Pompei dove viene definito il labirinto del Minotauro ma la troviamo anche in Spagna, in Grecia, in Inghilterra, in Svezia e sull'isola di Creta e poi più lontano in India, in Siria, in Arizona e in Egitto e anche in Peru Uno dei simboli saghi degli indiani opi è molto simile a questo labirinto e questo ci fa pensare come tutte queste civiltà possono avere in comune questo simbolo La forma che si trova sulla pietra di Coccino in molte altre incisioni e iscrizioni preistoriche evoca non solo un labirinto ma anche un'altra immagine La pianta che si viene a disegnare uno specchio di acqua al centro circondato da quelli che potrebbero essere canali assomiglia alla descrizione che Platone fa della capitale di Atlantide A questo punto non possiamo che porci una domanda che tutte queste civiltà antiche continuassero a fare riferimento ad una civiltà ancora più antica Non lo sappiamo né sappiamo cosa racconta la pietra di Coccino e se magari quei segni non sono altro che un alfabeto molto ma molto antico Ora la pietra di Coccino è di nuovo sotto la terra occultata agli sguardi indiscreti ma nello stesso punto in cui si è sempre trovata e sicuramente può continuare a far parte di quel più vasto disegno di cui è certamente partecipe Molte persone hanno trovato grandi parallelismi della pietra con altri fenomeni come il fenomeno dei cerchi nel grano e quindi della teoria aliena come un modo per comunicare alcuni messaggi Troviamo qualche relazione con le stelle ma sono teorie sulle ipotesi aeree che nessuno è stato in grado di risolvere Ma la cosa più sconcertante è il fatto di seppellire tutta questa pietra invece di studiarla e proteggerla Hanno deciso di seppellirla con tonnellate e tonnellate di terra e di pietre Ovviamente tutto questo non ha un senso seppellire un reperto per proteggerla dai vandali Questa storia crea molti dubbi Se vuoi proteggere il reperto fai un'area, un perimetro metti una recinzione o addirittura metti delle guardie ma non puoi seppellire deliberatamente l'intero complesso e dimenticarlo E questo può farci capire che forse la storia non viene raccontata nella sua verità soprattutto quando, come in questo caso rivelano una storia che potrebbe essere diversa da quella che ci raccontano nei libri di scuola e che forse andrebbe riscritta almeno in parte Forse una civiltà di 5.000 anni fa ha creato questa mappa stellare e lo ha lasciato lì come un messaggio che ancora non sappiamo cos'è Io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima Grazie a tutti